buongiorno ragazzi un saluto da un fotografo al volo e oggi siamo con i miei figli siamo qua oggi in arte dove in pratica ho portato lo show me per fare un piccolo test volo per la correzione di colori in camera adesso facciamo un attimino un po di settaggi e poi vi facciamo un attimo vedere come la partenza e settaggi di colore grazie a tutti 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 qua il video è finito vi fa piacere se mi piace iscrivetevi al canale e niente sempre con il nostro Xiaomi Mi Drone 4k un saluto a tutti e buon anno grazie a tutti